Musica Musica Siamo arrivati a fare perché ogni spettacolo sarà di partito. Quattro giorni alle 20.30, la lavatoria. L'ultimo appuntamento è in aula. Tutta anche delicata, nuova, per cogliere qua. Quattro giorni alle 20.30, la lavatoria. Quattro giorni alle 20.30, la lavatoria. Quattro giorni alle 20.30, la lavatoria. Significa che qualcuno ne ha bisogno. Significa che qualcuno vuole che ci siano. Significa che qualcuno vuole che ci siano.